L'ex scuola elementare Mariele Ventri al quartiere Europa, la vicina struttura di Mariconda dell'ex mercatorienale di via Mauri, l'ex scuola elementare di via Piccarielli accanto agli uffici comunali dell'Anagrafe. Sono questi gli edifici del comune di Salerno che potranno beneficiare delle risorse del PNRR con interventi di ristrutturazione e potenziamento dei servizi sociali. Un traguardo importante, quello raggiunto dal comune di Salerno, che ha ottenuto oltre 1.800.000 euro dal PNRR per potenziare la rete degli asilini di Salerno, i servizi per l'infanzia e per garantire sempre maggiore qualità di vita alle famiglie. Un obiettivo raggiunto grazie ad una corta programmazione ed una precisa progettazione che è frutto di un lavoro di squadra, ha detto l'assessore alle politiche sociali del comune di Salerno, Paola De Roberto. L'ultimo finanziamento che ci arriva dai fondi PNRR riguarda la ristrutturazione di una struttura che da tempo richiedeva un restyling, l'ex scuola Mariele Ventre. Sarà così possibile ridarla, ridonarla al territorio con una funzione importante dedicandola appunto all'infanzia. L'idea è spostare un asilo nido che è all'interno di una struttura della provincia, il Birillo, in quella zona lì e potenziarne i posti e i servizi in modo da riappropriarci diciamo così di questa struttura. In più ci sono interventi sempre grazie a finanziamenti PNRR che riguardano il restyling dell'ex struttura mercatale di via Mauri a Mariconda e un pezzo della struttura di via Piccarielli nei pressi dell'Anagrafe. È un modo per garantire sempre nuovi servizi a varie fasce d'utenza monitorandone naturalmente la qualità e contestualmente ristrutturare delle strutture ormai diciamo così in disuso dando nuova vita al patrimonio comunale. Ci sarà una nuova destinazione d'uso proprio per la struttura di via Mauri a Mariconda e per una parte dell'ex scuola di via Piccarielli? Assolutamente sì perché anche questo rientra in una progettualità che aveva delle finalità ben specifiche che ci è stata finanziata. Via Mauri diventerà un centro servizi per supportare le persone con più difficoltà da un punto di vista economico. L'idea è anche spostare, mettere lì anche un punto informativo delle politiche sociali, un segretariato sociale che possa essere di supporto alla comunità con una serie di servizi legali, assistenziali a supporto delle fasce meno abbienti. E per quanto riguarda via Piccarielli sperimenteremo un primo co-housing per anziani e disabili con un'azione appunto, ripeto, sperimentale che dovrebbe poi essere un nuovo approccio per garantire anche qualità di servizi in questo settore per questa fascia di utenza.